Il direttore generale dell'Ase di Teramo Maurizio Di Giosi ha tracciato il bilancio del lavoro svolto in quasi quattro anni a capo dell'azienda sanitaria locale e lo ha fatto ripercorrendo tutti gli obiettivi raggiunti dall'Ase di Teramo in questi anni segnati fortemente dalla pandemia. Un bilancio di tre anni, miei quasi quattro di lavoro e oggi lo voglio condividere con tutti i miei operatori che sono stati a mio fianco e che mi hanno seguito e hanno fatto squadra. Purtroppo la pandemia è stata, forse abbiamo dovuto combattere una guerra, però rappresenta un'esperienza sulla quale dobbiamo crescere e portare avanti una sanità che sia degna di salvaguardare al meglio il paziente e i cittadini. Noi abbiamo tracciato la strada per guardare al futuro, dopodiché chi verrà farà quello che dovrà fare. All'incontro dal titolo La Sanità che guarda al futuro erano presenti, oltre al personale medico e infermeristico, anche i rappresentanti istituzionali come l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che ha alloggiato il lavoro portato avanti da Di Giosia che ricordiamo è scadenza di mandato. Un bilancio assolutamente positivo, ovviamente questo frutto di un grandissimo lavoro di squadra tra Regione e Asle. Sì, hai detto bene, un lavoro di squadra, un lavoro di sinergia, oggi viene fatto il punto dei risultati che sono stati raggiunti da questa azienda, un'azienda che ha lavorato con impegno e con passione, risultati che vedono investimenti di alta tecnologia. Abbiamo avuto per la prima volta la PET, le risonanze magnetiche, strumentazioni all'avanguardia, personale in aumento, in aggiunto, stabilizzazione di personale e soprattutto quello che è importante è che questo presidio e questa azienda sta diventando piano piano punto di riferimento per i nostri corregionali. Durante l'evento si è anche parlato del futuro dell'azienda sanitaria Teramana e in particolare dei progetti da mettere in campo che passano dalla costruzione del nuovo nosocomio e delle riduzioni del liste d'attesa, argomento su cui l'assessore Verì ha annunciato l'allestimento di unità mobile su tutta la Regione e nuove app per sdenlire e agevolare tempi di prenotazione e consultazione. Sì e questo è il primo programma che abbiamo messo in atto adesso e proprio la direzione strategica ha gestito bene, sta gestendo sempre meglio questa riduzione delle liste d'attesa.